Sono Giovanni. Ma io sono Aldo. Aldo dei fratelli Giuffre. Ma pezzo di greddino fatta frecciare. E Giacomino che fine ha fatto? Anche lui è finito qua eh. Le linee vecchie fanno un buon brodo, sono morte perché... Ha fatto un buon brodo. Ha fatto un buon brodo, fortunatamente sono nati Aldo e Giovanni e Giacomo, da quelle... Quei novi. Ma il brodo primordiale sono nati Aldo e Giovanni e Giacomo. Che cosa è rimasto di quei primi tempi, quello che c'è adesso? Ma è ancora la voglia di divertire e di divertirsi e fortunatamente ancora lo stimolo che ci diamo... Soprattutto l'amicizia. E l'amicizia anche, che sembra sempre una banalità ma è una delle cose più importanti. Tre nonnetti in fuga. Ripeto, tre nonnetti in fuga. Ma siamo ancora di qua, siamo giatti là. E' a tendere dove guardi. Ci sento a dorri di anzianoci. Ti sei rotto niente? Mi scusi! Non so' andare... Io voglio ritornare al Presidente Grana e abbiamo... Certo che lei... E' anche il 4%... Che l'avranno già detto tante volte, nome nome... Nome nome e qui c'è tutto, eh. Presidente Grana... Presidente Grana... Ma soprattutto Padre ha detto che Massi è Presidente Parmigiano, comunque... Non ha colto la finezza... E' Natale, ci rincontriamo dopo vent'anni, sarà un segno del destino. Se non la smetti te lo lascio io un segno. Il Presidente Grana, che fino adesso ci ha tenuto a sottolineare che il investimento è stato di rilevanza per loro, se potesse diventare ponderoso nel prossimo film potremmo anche venire e potremmo anche venire un paio di volte, ne possiamo parlare, quando uno così dice ne possiamo parlare. Fuga da Reuma Park. Il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. A Natale, al cinema. Scappiamo!